telecom analisi mensile settembre 2020 allora aggiornamento del di questo titolo italiano telecom italia telecomunicazioni avevamo fatto già un video precedente dove non ero stato molto tenero qualcuno si era anche arrabbiato allora vediamo di capire se ci sono state delle evoluzioni che tipo di evoluzioni ci sono state che cosa dobbiamo aspettarci e dove potremmo trovare il titolo nel tempo allora avevamo visto come praticamente questa soglia a 040 050 avesse fatto lungamente da supporto la proviamo a segnare perché grafico qui la piattaforma non aveva salvato il grafico che avevo già realizzato la risoniamo un attimo quindi vedete questa soglia di supporto di insomma pavimento che aveva trovato il titolo principalmente la prima volta nel 97 poi nel 2013 quindi area 045 era stato un livello molto importante per il sostegno del titolo nei momenti di ribasso questa quest'area questo 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 prezzo aveva dato origine poi a dei rialzi importantissimi e anche molto violenti però poi ad esempio nel penultimo caso il titolo poi da area 1 e 20 1 e 23 e aveva cominciato a riscendere e se inesorabilmente tra l'altro guardate vi faccio notare una cosa allora mettiamo un attimino questo swing come come tetto dell'ultimo periodo guardate che coincide qua perfettamente a questo a questo a questo pavimento che si era creato invece addirittura nel 93 guardate poi qui nel 2015 dove si era fermato vabbè comunque veniamo un attimino ad analizzare un po più nel dettaglio la parte recente che può interessarci per capire un attimino come come può evolvere il titolo allora sicuramente appunto avevamo detto che 0 l'area 046 aveva funzionato per diverso tempo da supporto vedete anche ad esempio nel 2019 come diverse volte l'area 045 è servita anche in maniera debole per far ripartire il titolo che poi era arrivato fino a 0 57 ok ingrandiamo ancora prendiamoci questo ultimo periodo come riferimento vedete qua ad esempio 0 59 0 60 tra l'altro possiamo dire proprio sull'area di questi minimi venduti guardate la segniamo un attimo perché questa è interessante si segniamone un'altra allora guardate qui esatto qui guardate ad esempio qui come combacia c'è questo c'è questa spike di questa candela e qui abbiamo i minimi venduti di agosto 2018 su luglio quindi già la prima volta questo aveva fatto da aveva respinto il prezzo la seconda volta in maniera più decisa quindi l'area 0 59 0 0 60 che diverse volte aveva funzionato anche precedenza come pavimento adesso funziona al contrario respinge il prezzo e poi abbiamo la classica candela di gennaio febbraio e di marzo che arriva fino a 0 29 ora se guardiamo l'ultimo periodo potete vedere appunto come minimi e massimi di swing siano ordinati al ribasso l'ultimo periodo si parla degli ultimi cinque anni quindi insomma chiaramente è un mensile questo grafico e quindi è normale però questo non fa ben sperare come avevo già detto nel video precedente dobbiamo augurarci qualche cambiamento strutturale per poter vedere telecom recuperare in maniera importante perché in questo momento purtroppo quello che ci danno le informazioni che ci dà il grafico sono assolutamente di ulteriore ribasso se non se non che venga sostenuto in maniera forzata il titolo abbiamo poche probabilità di vederlo quantomeno recuperare in maniera importante ora agosto è un mese che ha dato delle buone speranze però vedete di nuovo come nel mese di luglio di agosto anche qui vedi si sia spinto fino il mese è chiuso si sia spinto fino a 0 42 ma in realtà poi chiude a 0 40 quindi non riesce tant'è non riesce a comprare i massimi di questi mesi precedenti qualcuno qua evidentemente ha chiuso le posizioni in preda un po al dubbio o alla paura ora bisognerà attendere settembre per capire se questi massimi verranno comprati e ci potessero portare fino quantomeno in area 0 48 che è l'area di minimi venduti tra marzo e febbraio di quest'anno quindi quest'area qua e poi successivamente insomma diciamo che il segnale fondamentale per poter vedere recuperare il titolo è sicuramente vedere comprare questo swing a 0 60 se il titolo cominciasse a posizionarsi sopra potremmo pensare potremmo pensare ad un recupero ora un'operazione su questi livelli quasi poteva entrare a 0 32 con lo stop su questo minimo a 0 29 sicuramente sarebbe stata un'operazione che di breve avrebbe dato soddisfazione adesso come adesso entrare a 0 40 non lo so anche perché appunto questo mese ci ha dimostrato come non riesca a comprare i massimi dei mesi precedenti quindi potrebbe anche tornare a scendere poteva essere interessante comprare il riassorbimento del minimo di aprile maggio su aprile avendo però uno stop su a 0 29 a 0 29 sul minimo sul minimo del mese di marzo questo poteva essere sicuramente un tentativo da fare ripeto la situazione è un po ancora ingarbugliata dobbiamo avere dimostrazione dal titolo che ci sia l'intenzione a instaurare un cambio di trend che in questo momento non c'è ripeto ancora la candela di agosto ci dà la conferma di debolezza non riuscendo a comprare neanche il massimo di luglio e stabilizzarsi sopra al massimo di luglio massimi e minimi di swing sono ordinati al ribasso quindi attenzione a posizionarsi su questo titolo con l'idea di tenerselo per chissà quanto tempo a meno che non avviate delle informazioni che io non ho su eventuali sviluppi e scenari di questo titolo prestate attenzione e nel momento in cui siete dentro in guadagno ponetevi dei target che possano essere verosimili basta direi che per il momento su telecom è tutto vediamo adesso con la ripresa del me con la ripresa di lunedì e col mese di settembre se avremo un titolo destinato a voler comprare e quindi continuare la corsa rialzo oppure se riprenderà di nuovo il ribasso teniamo conto che abbiamo un nasdaq a 12 mila punti un fib un indice e un sp 500 che comunque sono abbastanza verso l'alto quindi da quel punto di vista lì ci si potrebbe anche aspettare un ritracciamento degli indici che porterebbero inevitabilmente di nuovo il titolo a dei ribassi l'importante è sempre quello di avere uno stop definito durante la nostra operazione secondo me qualsiasi sia l'arco temporale del nostro investimento e poi di conseguenza insomma prendere decisioni cammin facendo